Le parole definiscono il mondo, se non ci fossero le parole non avremmo la possibilità di parlare di niente, ma il mondo gira e le parole stanno ferme, le parole si logano, invecchiano, perdono di senso e tutti noi continuiamo ad usarle senza accorgerci di parlare di niente. Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra, è evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra, ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la baccia invece di sinistra, un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabando è di sinistra, ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra, quasi tutte le canzoni sono di destra, si annoiano, sono di sinistra, ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche e un po' slacciate e da scemi più che di sinistra, ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? I bluesies che sono un segno di sinistra, con la ciocca vanno verso a destra, il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra, ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? La patata per natura è di sinistra, spappolata nel purè di destra, la pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra, ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra è trasparente, è evidente che sia un po' di destra, mentre i fiumi tutti i laghi e anche il mare sono di merda, cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra è di sinistra, l'ideologia, l'ideologia, valgrado tutto, credo ancora che ci sia, è la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa, dove non si sa, dove non si sa, io direi che il culatello è di destra, la mortadella è di sinistra, se la cioccolata svizzera è di destra, la nutella è ancora di sinistra, ma cos'è la sinistra? La tangente per natura è di destra, con consenso di chi sta a sinistra, non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra, ma cos'è la destra, ma cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra, è l'un po' degli anni venti, un po' romano, è di stronzi oltre che di destra, ma cos'è la destra, ma cos'è la sinistra? Ideologia, ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia, è il continuare ad affermare un pensiero e il suo perché, con la scusa di un contrasto che non c'è, se c'è chissà dove, se c'è chissà dove. Canti chiaro con la chitarra è di sinistra, con il karaoke è di destra, i collassi sono quasi sempre di sinistra, i reggi canzzi più che mai di destra, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra, sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra, wow, wow, cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipale è di sinistra, riservata già un po' più di destra, ma un figone resta sempre un'altra azione che va bene per sinistra o destra, wow, wow, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra, è evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Cos'è la sinistra? Cos'è la sinistra? Nessi quasi nissi, nessi quasi nissi, basta